cari amici benvenuti ad un altro video della serie dedicata al decameron nel quale leggeremo e commenteremo insieme il proemio dell'opera tre pagine dense di significato perché in esse boccaccio parlando in prima persona illustra il suo progetto letterario allora qual è il contenuto del proemio voi tenete sempre presenti questi due nuclei tematici perché e per chi del decameron boccaccio sente prima di tutto l'esigenza di chiarire le ragioni del narrare quindi perché scrivere novelle in secondo luogo e nel momento in cui si scrivono novelle bisogna anche individuare un pubblico di lettori di novelle insomma quello che nella narratologia moderna viene definito destinatario del messaggio letterario quindi insomma per chi scrivere novelle ecco boccaccio risponde ad entrambe queste domande in queste importantissime pagine proemiali che dal punto di vista del contenuto possono essere suddivise in nelle seguenti quattro sequenze adesso le scorriamo rapidamente e poi le analizzeremo una per una leggendo alcuni passi dunque il proemio e quindi l'opera si apre con un'affermazione di principio è uno degli incipit più celebri di tutta la letteratura mondiale umana cosa è l'aver compassione agli afflitti insomma bisogna entrare in diciamo corrispondenza emotiva con coloro che soffrono segue poi un riferimento biografico autobiografico di boccaccio il quale confessa di aver sofferto per amore e per lungo tempo e di aver ricevuto un enorme conforto dalla compagnia e dalle parole di persone a lui care memoria e gratitudine queste le due parole chiave due belle parole del passo che possiamo individuare come terza sequenza boccaccio memore del dolore sofferto e anche del conforto ricevuto è grato a chi glielo ha donato e vuole fare altrettanto cioè vuole offrire a sua volta conforto a chi ne ha bisogno di conseguenza vedete boccaccio costruisce il proemio seguendo un ragionamento estremamente logico l'autore individua un pubblico di potenziali lettori che potrebbero aver bisogno del conforto della letteratura perché del conforto perché la letteratura è la più desiderabile oasi felice come la definì cicerone nello strepito della vita umana cosa è l'aver compassione agli afflitti e come che a ciascuna persona stea bene a coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hanno trovato in altrui ecco tutti hanno il dovere umano di provare compassione per chi soffre ma soprattutto coloro che hanno già beneficiato della compassione altrui ecco questo incipit che come dicevo prima è meritamente uno dei più celebri di tutta la letteratura non solo italiana ma direi proprio mondiale ha un sapore squisitamente umanistico perché di cosa parla beh di compassione come dicevo della capacità di entrare in corrispondenza con il dolore altrui parla della capacità di di confortarsi gli uni con gli altri che è uno dei talenti più nobili della natura umana questo libro si apre quindi all'insegna dell'uomo e della sua più alta umanità cioè della sua capacità di vibrare nella gioia e nel dolore insieme ai propri simili bene a questa iniziale affermazione generale boccaccio collega una sua esperienza personale autobiografica e passiamo quindi alla seconda sequenza boccaccio in questo passo sta confessando di essere egli stesso di essere stato egli stesso uno di quegli afflitti che hanno avuto bisogno della compassione e del conforto altrui boccaccio ha sofferto per amore ha sofferto molto e per lungo tempo ma attenzione a quello che dice subito dopo certo non per crudeltà della donna amata ma per soperchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito ecco queste parole sono importantissime perché qui boccaccio sta introducendo uno dei motivi conduttori dell'opera l'errore di misura in questo caso l'errore di misura nella passione questi termini non sono usati a caso soperchio fuoco poco regolato vedete sono tutte aggettivazioni negative dell'amore ma questo passo ve lo sintetizzo dio è eterno e ha stabilito che solo egli stesso potesse godere dell'attributo dell'eternità al mondo invece tutto passa tutto finisce compreso l'amore e come sarà capitato di sperimentare anche a noi quando l'amore si affievolisce finisce si spegne ci lascia un distillato nel quale la sofferenza è sparita o comunque appare lontana mentre rimane una sorta di piacevole nostalgia dunque il dolore la pena la sofferenza quelle sì si sono dissolte con il dissolversi del sentimento ma non il ricordo del conforto ricevuto dagli amici e dalle persone care ed incomincia così la terza sequenza con la prima delle due parole chiave memoria quantunque cessata sia la pena non perciò è la memoria fuggita dei benefici ricevuti e però il ricordo la memoria rimarrebbe cosa inerte se ad essa non facesse seguito l'azione potremmo dire insomma la gratitudine e veniamo qui alla seconda parola chiave che vi avevo anticipato prima e perciò che la gratitudine secondo che io credo tra l'altre virtù è sommamente da commendare cioè da lodare e il contrario cioè l'ingratitudine da biasimare per non parere ingrato ho me co stesso proposto di volere in quel poco che per me si può in cambio di ciò che io ricevetti alcuno alleggiamento cioè alleggerimento sollievo prestato bene e si conclude qui questa prima sezione del proemio le prime tre sequenze interamente dedicate al perché dell'opera quindi le ragioni del narrare boccaccio termina affermando di essersi deciso a prestare alcuno alleggiamento cioè un po di sollievo a chi più ne ha bisogno e adesso vediamo secondo l'autore chi più ne ha bisogno e chi negherà questo questo sollievo quantunque egli ci sia per quanto sia piccolo non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare ecco le vaghe donne sono il dedicatario e il destinatario privilegiato del decameron e attenzione vaghe in italiano antico nel significato di innamorate ora questa scelta è veramente rivoluzionaria una delle tante rivoluzioni di boccaccio rispetto alla cultura medievale perché non solo sceglie di dedicare un'opera letteraria ad un pubblico femminile che insomma potete immaginare non fosse cosa così usuale ma effetto anche una distinzione tra donne innamorate e donne che non hanno sperimentato l'amore e il motivo di questa distinzione all'interno del pubblico femminile ce la spiega subito dopo vi sintetizzo queste righe che sono veramente belle anche perché ci aprono uno spaccato ci aprono una finestra sulla condizione femminile nel 300 le donne innamorate tengono le amorose fiamme nascoste dentro i delicati petti e aggiunge boccaccio chi lo ha sperimentato sa bene quanto l'amore nascosto bruci più di quello palese sono chiuse nei circosti delle loro camere obbligate a rispettare i voleri i comandamenti di padri madri fratelli mariti e quindi se qualche pensiero qualche malinconia d'amore sopravviene nelle loro menti vi rimane a meno che non sia rimossa da nuovi ragionamenti cosa che non accade agli innamorati uomini che hanno una quantità di modi di possibilità a disposizione per allontanare i malinconosi pensieri andare in giro udire e vedere molte cose uccellare cacciare pescare cavalcare giocare mercata insomma gli innamorati uomini a differenza delle vaghe donne possono fare un sacco di cose per scacciare i brutti pensieri dalla testa ma le donne non innamorate quelle rimaste fuori dalla dedica di boccaccio che fine fanno in fondo anche a loro chiuse nei circuiti delle loro camere può capitare di avere brutti pensieri per la testa beh boccaccio le liquida diciamo anche tra parentesi con una certa sufficienza dicendo che alle donne che non sperimentano l'amore basta l'ago il fuso e l'arcolaio ecco chiariamo bene questa posizione di boccaccio e questa scelta di escludere una parte del pubblico femminile dalla dedica del libro scelta che non deve essere male interpretata e soprattutto non deve essere giudicata secondo criteri di giudizio e di interpretazione moderni è infatti una scelta che ha una duplice fondamentale valenza in primo luogo è un chiaro retaggio stil novistico ricordate dante donne che avete intelletto d'amore ricordate anche guinizelli al cor gentil re impaira sempre amore ecco lo stato di donna vaga di donna innamorata il fatto di avere intelletto d'amore è indice di gentilezza e quindi di nobiltà d'animo e in secondo luogo e qui boccaccio segna l'ennesimo enorme scarto culturale rispetto all'epoca in cui vive egli sembra privilegiare le donne che soffrono per amore rispetto a quelle che si accontentano per così dire di esercitare la loro funzione nell'ambito della casa funzione che si esprime classicamente con i lavori di tessitura ago fuso e arcolaio la donna che tesse e ricama seduta alla finestra di casa un'immagine tradizionale rassicurante positiva ma per boccaccio il modello positivo di donna sembra essere proprio l'altro quello a cui ago e filo non bastano le 100 novelle sono per loro